Relatore al Focus Tour di Cremona, Marco Chiarulli, supporto tecnico FIRE di Inim. Quali le novità della nuova versione della 97-95? Le novità della 97-95 sono molte. Sono state introdotte dei TR all'interno delle norme riguardanti i sistemi di aspirazione e i sistemi ottici-acustici. Sono state modificate alcune letture sui rilevatori ottici di fumo, termici e altre tipologie di apparati. Abbiamo visto l'introduzione di moltissimi schemi a blocchi, disegni e esempi che prima, nella versione precedente, non erano così dettagliati. Questo ha portato più chiarezza nella norma. E infine, adesso per non andare proprio nel dettaglio, è stata introdotta anche la parte manutentiva di verifica e controllo degli impianti IRAI ed EVAC con la 11.224, che prima era una norma completamente esterna, oggi è integrata all'interno della 1.97-95-2021. E quindi appunto sul decreto controlli che cosa ci può dire? Esatto, il decreto controlli che è entrato in vigore quasi parallelamente alla 97-95-2021 è ancora in fase di sviluppo e riporta per l'appunto, riporterà a breve, quando sarà ufficialmente operativa, con la certificazione dei tecnici qualificati manutentori antincendio, quelle che sono le attività che questi tecnici dovranno svolgere. Ovviamente tutte queste prove sono riportate anche all'interno della 97-95 e il decreto controlli obbligherà questi tecnici manutentori a svolgere queste attività seguendo proprio il criterio che la norma richiede. Chiarissimo. Durante il suo intervento l'ingegner cancelliere si è soffermato anche sul concetto causa-effetto. Sì, ecco questo è un concetto un po' delicato perché effettivamente in fase di progettazione questa informazione che va elaborata dal progettista con l'RSPP della struttura che effettivamente conosce le criticità dell'ambiente e della struttura devono definire bene come deve essere fatta l'evacuazione in sicurezza di questi stabili. Quindi la progettazione va poi applicata seguendo la norma ma è consigliabile che questa valutazione venga fatta a priori quindi che il progettista sappia bene quali sono i piani di evacuazione per poi costruire sulla base di queste informazioni il vero e proprio progetto seguendo quelle che sono le norme tecniche di riferimento e ovviamente la regola dell'arte.